Miscelare l'arte anche alla natura, allo spettacolo, al teatro, alla musica e a tante altre cose a seconda del luogo nel quale poi vengono organizzate. Riprendono le visite turistiche in città, nei vari musei, con turisti italiani soprattutto, ma anche molti fiorentini che così colgono l'occasione per conoscere meglio la loro città. E' il caso di Villa Bardini, il suo splendido giardino con la mostra dedicata a Galileo Chini. Dopo il lungo stop imposto dalla pandemia, la proposta delle guide diventa multidisciplinare per stimolare la vista ma anche l'olfatto e l'udito in formule che vanno oltre gli schemi classici delle visite alle mostre. Un'esperienza coinvolgente per far incontrare arte, piaceri e divertimento. Siamo un po' state costrette, anche abbiamo avuto il tempo durante questa fase di mobilismo forzato dovuto alla pandemia, a ripensare un po' anche alla nostra professione e a cercare di trovare dei modi per attirare l'attenzione, vuoi del turista italiano che magari tante cose già le conosce e vuoi anche diversi ambiti. Quindi nello specifico abbiamo abbinato le due professionalità, la mia di guida turistica per Galileo Chini e la giornalista Mara Amorevoli che è una specializzata del Giardino Bardini con tutti gli aneddoti anche non solamente naturalistici ma anche riguardo proprio alla vita di questo antiquario che subì una damnazio memoria e che era un personaggio così molto particolare. Grazie. Grazie. Grazie.